Tante notizie, così dicono i rumor di settore, così dicono quelli vicino a Phil Spencer, così dicono quelli vicino a Bethesda Tante notizie, soon! Ragazzi, quando si dice tante notizie, al più presto, al più presto una settimana, un giorno, un mese Io spero vivamente che quando farò uscire questo video, magari una conference su questo videogioco Si è già stata annunciata, per ora, che sto registrando, che il 4 marzo 2023 Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è E da diverse settimane su Starfield stiamo un attimendo assistendo a un aumento dei rumor Questa cosa ovviamente mi fa dire, ma io di Starfield finora, qui sul canale, non ne ho parlato così tanto Bene, come sempre, allora mi metto giù su internet Guardate, credetemi, cerco nella somma di un anno Tutte le notizie, i rumor, i tweet, le interviste nel settore E ne ho trovate un botto E questo botto, ovviamente, devo essere sincero Sono state anche molto vaghe, ok? Allo stesso tempo, all'interno di Starfield Parliamo non del vero e proprio gameplay Ma parliamo di che cosa rappresenta Starfield Starfield è una nuova IP di Bethesda Bethesda, ragazzi, è tanti anni che non produce una nuova IP Questa grafica che state vedendo, che tutti noi abbiamo pensato subito rivoluzionare In realtà è il Creation Engine 2 E per farlo, e per farlo girare al meglio e con questa grafica Sono stati fatti enormi miglioramenti Ma anche e soprattutto tante accortezze E questo in qualche maniera Sembra che Possa, e lo metto subito qua per iscritto Non essere esattamente una grafica da next gen Dopodiché parliamo della generazione dei mondi Si parla di mappe enormi, mastodontiche, incredibili Alla nomin sky quasi Eppure, noi sappiamo molto poco di questi mondi Noi sappiamo molto poco di quanto siano grandi Ma soprattutto online si parla O per meglio dire, si dubita Su che genere di videogioco sia Starfield Perché obiettivamente abbiamo visto sessioni di shooting Queste sono sessioni di mining, eccetera, eccetera, eccetera E ci si chiede, ci si domande Ma altro? Ok, che andiamo a fare? E sì, un gioco di ruolo, uno shooter sullo spazio Ma servono tante altre caratteristiche Per renderlo bello e fruibile Dopodiché ovviamente si parla anche del fatto che sia un'esclusiva Xbox E questo ovviamente ha a che fare poi con Microsoft E l'acquisizione di ActinVision Che viene ostacolata in maniera abbastanza importante Con le diffamazioni Perché sono... e ciò che è una diffamazione da parte di Sony Comunque sia, insomma Mi sono dato davvero molto da fare su Starfield quest'oggi E dobbiamo fare un'enorme carellata di tante cose da dire E abbiamo poco tempo Dai, forza ragazzi Iniziamo con la mini sigla E poi inizio subito a parlare Allora, il primo argomento che sicuramente vi farà più gola E ha a che fare con degli annunci su questo videogioco Bene, la prima parte appunto si è concentrata su ipotetiche date di uscita Attualmente ci troviamo ancora, no? Pubblicato intorno al 2023 Amici, siamo già al terzo mese dell'anno, ok? La campagna pubblicitaria La campagna di marketing Preordine e tutto quanto Non è esattamente corta, piccola O comunque non può essere, no? Del tipo Esce il videogioco Chi si è visto, si è visto Andatevela a comprare No? Deve essere abbastanza capillare In fin dei conti noi sappiamo che Per quando si pubblica un videogioco, ragazzi Il 45% Ha a che fare con la produzione del titolo Il 65%, circa, meno, quasi Ok? Poi le percentuali variano ovviamente da distributore a distributore Hanno a che fare con il marketing Pensatevi voi le percentuali Bene Attualmente non abbiamo ancora informazioni Io spero vivamente che quando uscirà questo video Ribadisco, ne avremmo qualche informazione in più Ma per ora non è così, ok? Ma nel settore si vocifra da tanto tempo Che Microsoft debba fare assolutissimamente una conference Allora, in molti si aspettavano delle conference Come Sony Sony manda fuori un tweet Fra una settimana facciamo una conference Eccetera, eccetera, eccetera Microsoft non intende fare così Anzi, vi dirò di più Microsoft e Bethesda non stanno dicendo assolutissimamente nulla di nulla Calma, piatta O per meglio dire Philip Spencer sta parlando del titolo Ha detto che è in buona fase Indirittura d'arrivo E che sta delineando in maniera più precisa Le date di uscita di grandi titoli Come Havowed Hellblades 2 Starfield E poi Fable Che insomma stiamo parlando di 4 EP Non da poco per Xbox Che deve assolutissimamente fare bene, no? Deve delineare bene la finestra di uscita di questi grandissimi titoli Grandi titoli che ovviamente sono grandi esclusive Grandi esclusive che ovviamente gli permetteranno di guadagnare nuova quota di mercato Quota di mercato che attualmente è dominata in maggior parte da PlayStation 5 Bene, appunto, dicevo Serve il comunicato Serve una conference Ma soprattutto servono tante altre idee Perché qui mi collego a quello che dicevo prima E cioè del videogioco Come vedete Abbiamo visto tanto gameplay Non scordatevi Abbiamo visto tanto gameplay Tante possibilità artistiche Ovviamente O per meglio dire Abbiamo visto mondo di gioco Ma non abbiamo visto proprio precisamente Gameplay puro e vero Abbiamo visto le sparatorie Certo E' un gran mondo Sulle sparatorie Sappiate che ovviamente Perché Starfield ha a che fare tantissimo con le sparatorie Gli sviluppatori di Doom Giusto perché voi lo sappiate Doom è sviluppato da una casa di sviluppo parallela in mano a Bethesda Per cui Sono andati a dargli una mano per rendere il feeling No? Doom è uno degli sparatutto in prima persona più importanti Questo ovviamente dovrebbe esserlo Vedete Le sessioni di shooting sono abbastanza importanti E appunto A parte questo A parte ovviamente Poi il fatto che abbiamo le astronavi Questo, quell'altro Le armi sono modificabili Eccetera eccetera In sé per sé Delle missioni secondarie A che cosa serve fare il mining A che cosa serve esplorare Un No? Un ambiente Un nuovo pianeta Essenzialmente non ci viene spiegato Mancano Tutto ciò che riguarda No? L'esplorazione Il power up Noi sappiamo che è un gioco di ruolo Come un gioco di ruolo Come lo è Fallout Come lo è Skyrim Devono esserci delle statistiche del nostro personaggio Ma queste statistiche Cosa sono? Che cosa servono? Che cosa sbloccano? I pianeti Poi Perché dovrei andare in tutta questa oscenità Nel senso di numero importante Di pianeti Non lo sappiamo ragazzi Non lo sappiamo Ecco perché Dico Abbiamo bisogno di informazioni E queste informazioni Come vi stavo dicendo Appunto Tendono a essere Un po' Limitate O comunque Ci infarciscono Di quei 10-15 minuti Di gameplay Come in questo caso Vediamo che Sì Insomma C'è tanta carne al fuoco Ma non riusciamo davvero Ad assaporare Veramente Cosa è questa carne al fuoco Quante fazioni Quanti NPC Quanto è dura Alla campagna single player Sì Ci saranno Espansioni varie Ed eventuali Perché dovrei Ampliare Come avete visto La mia base Ehm Insomma C'è tutto il contorno Che ovviamente Non è scritto Non è detto E ci manca E molti Iniziano a sentire Questa mancanza Come un Porca mignota Sono informazioni importanti Dopodiché Su internet Ovviamente Ci sono anche Tante teorie E queste teorie Che cosa hanno a che fare Beh Hanno a che fare Ovviamente Con la campagna Single player Perché vedono Il nostro personaggio Fare del mining E si chiedono E si domandano Ma che cosa Stiamo raccogliendo Per chi Lo dovremo Raccogliere Infatti Stando a una delle teorie Più accreditate L'eroe di Starfield Dovrebbe iniziare Il suo viaggio interstellare Indossando Gli umini Panni Di un minatore Spaziale A detta Dei fautori Di questa teoria Gli indizi offerti Dal video Deep Drive In Starfield Mostrato Da Bethesda Hanno a che fare Appunto Con l'estrazione Mineraria Sempre poi In base A questa teoria Il giocatore Dovrebbe assumere Il controllo Di un'astronave Dopo essere Entrato in contatto Con un membro Del programma Constellation Ed aver ereditato I compiti Del precedente Comandante Oppure Si inizia a parlare Anche di manufatti Extraterrestri E quindi Di una specie Di chiamata Di un eroe Essenzialmente Come avete capito Queste sono solamente Teorie Ma ho voluto Elencarvele Perché? Perché Insomma Sono solo teorie Date dalle persone Io non ho detto Che Bethesda Dovrebbe darci Queste informazioni Assolutissimamente No ragazzi Non è questo il mio Intento Il mio intento E dire Bene Perfetto Qua Tante informazioni Crit Qua vediamo Un quantitativo Di percentuali La grandezza Di un mondo Questo è ferro E iron Ok Ci da chiedersi Da domandarsi No Fin Che profondità Perché Se voi mi dite Eh ma E come Skyrim Prendi pezzo L'avena di ferro L'avena di oro Poi vai sulla fornace E da quella fornace Prendi lingotto Dal lingotto Fai la tua armatura Ma l'armatura La fai Solamente Se hai un determinato Livello di Armatura O Armaiolo Eccetera Eccetera E fabbro Io dico Va bene Ma è un qualcosa Di già visto Quindi Comprendete Che Nonostante Il titolo Ci dia Molte informazioni Queste informazioni Oggi Sono già state viste O sono Essenzialmente Molto 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 Limitate Dopodiché Ovviamente C'è la questione Della data D'uscita Ribadisco quello Che ho detto prima Data d'uscita Che ancora non abbiamo Eppure il titolo Non è stato posticipato Certo Certo è che Bisogna cercare Di inquadrare Abbastanza bene La data D'uscita Il gap Ok Per non andare Contro ad altre IP O comunque Altri titoli Che usciranno Per Xbox O comunque Non in quel momento Affannoso Dell'anno Dove A fine anno Noi lo sappiamo Abbiamo sempre Quelle 3 4 5 Grosse IP Che ragazzi Non sai mai Cosa comprare Ok C'è sempre FIFA C'è il Call of Duty C'è l'Assassin's Creed C'è Starfield Ragazzi Non è che puoi Pretendere di averne Tutti e quattro Bene Questa è una questione Davvero molto importante All'interno di questo video All'interno di questa discussione Perché Perché Bethesda Non può fallire Bethesda Con l'ultimo progetto Che ha dato vita E cioè Fallout 76 Non sta Non ha Non si è guadagnata Molta fiducia Bethesda ne ha tante Di software house Non ha solamente Chi fa Skyrim E Fallout Ma anche Ad esempio Quella Di Doom Ma senza ombra Di dubbio Un'IP Grossa Come questa Che sarà poi Anche esclusiva Per PC E Xbox Dovrebbe cercare Di far brillare No? Il tutto Ecco Il brillare Il cercare Di dare Un'esperienza Single player Importante Non è da Poco Inoltre Come La fortuna Degli Skyrim E dei Fallout È stata quella Di lasciare Il videogioco Diciamo Aperto Alle mod Alle costruzioni Alle possibilità Un mondo Grande E vario Che ancora oggi Ragazzi Io vi racconto Qua sul canale Viene scoperto Dopodiché Ci vuole Il supporto Ci vuole Ovviamente Che il titolo Non sia rotto O che comunque Le possibilità Di esplorazioni Siano importanti Detta in parole Povere Skyrim Che voi Sappiatelo Skyrim È stato comprato Da milioni Di player In tutto il mondo Ma se voi Andate a vedere Gli achievement Globali Di Skyrim Ma sappiate che Solamente Meno del 30% Dei player Ha mai davvero Completato La trama Single player Di Skyrim O di Fallout Questo perché Perché non ci interessa Perché sono open world Di solito Che puoi goderti Dal momento Uno immediatamente Senza romperti Le palle In una storia Del drago Che non ti interessa Che non ti aiuta Ok Ecco Questa è una questione Davvero Molto importante Bisogna cercare Di capire Chi è Bethesda Ma soprattutto Bisogna cercare Anche E speriamo Ovviamente Che Starfield Abbia La stessa Anima Libertina E che sia Appunto Adeguatamente Supportato E programmato Perché attualmente I videogiochi Che stanno uscendo Programmati Bene Non lo sono Neanche lontanamente E un IP Di Microsoft Uscirà Su PC E Xbox Ribadisco Ha tutto A che fare Con la reputazione Ha tutto A che fare Con il marketing Ha tutto A che fare Con il prestigio Microsoft Compra Bethesda Il mondo Soprattutto I soniani Si infuriano Tantissimo Perché sanno Che questo videogioco Non uscirà più Sulla loro console Morale della favola Bisogna dare Ai soniani O comunque Bisogna dare Al pubblico Una motivazione Chiara E precisa E soprattutto Di qualità Sul fatto Che il videogioco Uscito Sulla loro console Deve funzionare Bene Non si può Assolutissimamente Cazzare E su questo argomento Ovviamente Sarebbe da parlare Di Sony E del fatto Che sta Ostacolando L'acquisizione Di Microsoft Acting Vision Che poi è anche Blizzard Ok E sta Un attimino Fomentando L'opinione pubblica Dicendo Guardate Che se vi fate Comprare Da questi Vi scordate I titoli Call of Duty Come se Acting Vision Blizzard Abbia Solo Call of Duty Ne ha tante altre Dp Grosse E importanti Ma Loro si Puntano Su quello Ok Relativamente E appunto Bisogna Anche Iniziare Finalmente A dimostrare Che le acquisizioni Di molti Casi Di Distribuzione Molte Casi Di sviluppo Di videogiochi Sono state Fatte bene Producano Rendono felici E Fanno Guadagni Tutto questo Ha a che fare Ovviamente Con ciò che Percepisce il pubblico Ciò che percepiscono Gli azionisti E la reputazione Di Microsoft Xbox E del modo Di fare Ovviamente Di Phil Spencer Questo titolo Insomma Attualmente È il più Desiderato Del 2023 Dopo l'uscita Del bellissimo Hogwarts Legacy Il videogioco Più atteso Per quest'anno È appunto Questo E il pubblico Inizia in qualche modo A spazientirsi O comunque A essere leggermente Confuso Su Che cos'è Starfield Come me lo vuole presentare Che cosa mi regalerà Starfield Basterà il nome Bethesda Per calmare tutti Sembra Appunto Per via Delle Alcune Cavolate Che sono state fatte Sembra appunto Di no Basta Dire che Il titolo Viene dato Nella console Più potente Attualmente In commercio Per dire Sarà Incredibile Sarà una grande Esperienza Assolutissimamente No Servono Più Informazioni E queste informazioni Ragazzi Arrivano E dovranno arrivare Solamente Con dei video Dedicati Con una conference Dedicata E quando succederà Io sarò qui A raccontarvelo Per cui Se il video vi è piaciuto Volete sapere altro Su questi e altri Videogiochi Sulle notizie Del settore Io sono qui Vi basta semplicemente Un like E iscrivervi Così facendo Mi fate capire Che il video vi è piaciuto E che Non vi perderete I prossimi Mega video Alla prossima Ciao